E' stato solo un pizzico di fortuna e l'occhio lungo della loro padrona ad evitare una morte orribile a due cani meticci, un maschio e una femmina di stazza medio piccola, che dimorano in una villetta di Via Nini a Fano, a pochi passi dall'ospedale Santa Croce. Fuori dall'uscio di casa, ieri mattina c'erano ad aspettarli quattro bocconi avvelenati nel giardino, buttati da chissà chi. E' stata una scoperta, sì, inquietante perché lì per lì non volevo nemmeno crederci e poi però si vedeva che cos'era, sono salita di sopra, l'ho fatto vedere anche mio marito, l'ho aperta ed era bresaola e con dentro una bustina intera di tupicida, quattro polpette con all'interno ciascuna una busta di tupicida. Di veleni per topi ne esistono di diverse tipologie, per alcune delle quali non esiste antidoto, per altri gli animali avvelenati se scoperti per tempo possono ricorrere alle cure del veterinario per scampare a morte certa, ma resta il fatto che è una lotta contro il tempo, sempre ammesso che il padrone si accorga dell'accaduto e sia possibile individuare la sostanza ingerita dall'animale. Per i due piccoli compagni di giochi è scampato pericolo, ma al momento rimane sconosciuto l'autore di un gesto simile e le motivazioni, senza che prima d'ora ci fossero mai stati segnalati episodi simili. Oddio, ho sentito adesso il vicino, mi ha detto che era successo qualche anno fa e loro non l'avevano ricondotto, non ho pensato a una cattiveria, ma un caso, però la cagnolina aveva rischiato di morire, circa tre anni fa mi hanno detto. Adesso state un po' con le antenne dritte? Adesso stiamo con le antenne dritte, controlliamo qualsiasi cosa, ogni movimento, i cani prima di farli scendere li controllo prima intorno se c'è qualcosa di brutto e poi faremo altro. I cani stanno bene però? I cani stanno bene, sono passate ormai quasi le 48 ore, non hanno sintomi e ripeto la piccola le avrebbe mangiate tutte e non le avrebbe lasciate lì, quindi è andato bene così.